Passerà anche la storia al Redentore senza fuochi? Eh beh, certo, sì. E passerà anche la storia a chi ci è venuto, a chi ci è andato. Insomma, chi ha potuto vedere, sarà anche chi ci va di più, che ci è sempre andato. Parlo per me, almeno, è quasi, cioè, eravamo un po' allibiti, no? Per vedere, perché il bacino di San Marco non l'abbiamo comunque addobbato, sia sulla Giudecca, perché non vederle le barche, non vedere le chiate che devono fare i fuochi, eccetera, veramente dava un senso di stranezza, dall'abitudine. Però è stato qualcosa di particolare, insomma, secondo me è stato anche giusto così alla fine. Mi è dispiaciuto, ovviamente, qui, mi prometto di rifarmi i fuochi, faremo il doppio, insomma, non so, ci inventeremo qualcosa di straordinario. Questa è una promessa, non c'è dubbio, sarà anche bello poter dichiarare che è finita l'epidemia. Oggi averlo fatto non sarebbe neanche stato proprio del tutto corretto, visto il tasso oggi di contagio. Mi sembra che ancora una volta la città, voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno fermato, per ringraziarmi della scelta, per darmi coraggio, perché, francamente, comunque ero assillato dei dubbi in ogni caso. Però ho avuto anche tanti, appunto, amici, albergatori, persone che mi hanno detto che non hanno avuto disdette particolari. Avevamo i garaggi tutti pieni, è andato bene. È stata anche una bella esperienza vedere le galleggianti, queste barche con delle band locali, che erano anche scherzose, cioè se si ascoltava la musica c'era anche molta voglia di divertimento, perché è stata una festa diversa, ma altrettanto bella, molto anche intima, molto, appunto, romantica. A me personalmente è piaciuto molto, dopodiché, se mi dite, così non la voglio rifare più.